ah è vero che ci sono le forbici qua, sono tutti a pezzi ah così, di violenza ok boss Mario, aiuto sei stata catturata da qualcosa specie di mano, cupo e strisciante, tutto c'è molto snervante è la mano di Wind Waker quest'è questa cosa ho data pura Mario aiuto, mi ti prego con calma è un boss vabbè c'è il cartomagno del fuoco anche della terra volendo ok allora andiamo a fargli un pelino di danni tipo anche tanti non so in che modo mi piacerebbe tentare una cosa strana sarebbe da far così però non con i doppi danni o sì cioè oddio io potrei provare a fare no mi cacchio c'è sicuro col fuoco li faccio più danni però anche con l'acqua magari acqua e carta no scusa eh proviamo a fare una cosa così e una cosa così no cacchio così io non esco ah così to così dovrei prendere il cartomagno non prendere i doppi danni cerca di attaccare dalla giusta distanza né troppo lontano né troppo vicino ok due caselle più in là va bene va bene ok non ci avevo pensato non ci avevo pensato è vero senza Olivia non si può fare niente ok ok gioco né troppo lontano né troppo vicino ok beh comunque mi sembrava una buona idea quella cioè non ero troppo lontano né troppo vicino giusto qua lì sono troppo vicino quindi il cacchio come cacchio funziona sta roba perché mi perdo sempre vogliamo far così proviamo proviamo così sì 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 non li farei doppi danni però martello proviamo un martello di fuoco qua equipaggiamo un martello di fuoco sono sempre dell'idea che faccia più danni trattandosi di un mono ricarte in teoria ha mollato un po' la presa qualsiasi cosa che tu abbia appena fatto farlo un'altra volta ok va bene il problema lì è stato il danno normale allora così arrivo su prendo il doppio danno e poi li facciamo un così easy semplice 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 però doppio danno non ci avviciniamo nemmeno non so se il martello di fuoco o il martello mitico è meglio ok maledizione ho un'altra botta bossa a caso così non pensavo cioè pensavo potesse essere una battaglia normale ma non me la immaginavo perché comunque è una mano e roba così è ovvio che stia in centro va bene allora arriviamo lì e questa cassaforte mi piacerebbe prenderla però mi piacerebbe più prendere i doppi danni e qua li mettiamo questa un po' così meglio i doppi danni sempre meglio i doppi danni proviamo il martello grosso cioè proviamo il martello potente mitico mitico al posto del dorato che tanto non l'uso così mai anche se mi dai soldi 33 è poco però no la prima volta ti è caduto in testa finalmente libera è stato orribile là dentro era tutto appiccicaticcio ti ringrazio Mario adesso gli ha un fuoco tra l'altro sono sempre attive queste cose un bello schiaffo sulla mano a questa cosa dirige di verso una piazzella manforte eh andiamo con quella ma che cacchio sasso forbici e carta mi ha già sentito parlare che sia la leggendaria arte e marcella e carta sasso che dici no? ah è stata carta forbici in effetti così sono meglio se mi schiavi le pare abbiamo ragione ok forbici che cagata allora facciamo così ok poi forbici non lo so se metterglielo dietro eh vabbè nel senso vabbè proviamo non so se dovevo andare un tassello prima forse era meglio un tassello prima ah ok più sei vicino più fai danni ma pari meno vabbè il dirimito è arti per giocare agita al controllo se la parola all'ultima parola di sasso carta forbici per raccogliarti questa casella sasso carta forbici ho fatto una foto cosa? ho fatto forbici ma perché non l'ho preso? raga sono un po' confuso in questo momento scusa un attimo non capisco che è successo? ma fregato? ma fregato ma fregato scusa un attimo raga non c'ho capito niente non c'ho capito niente perché ho perso? ho perso con forbici ma che tarroccata è mai questa? ho perso con forbici dai dai perché fa pugno? no raga ma qua stiamo qua stiamo varando di brutto è rotto perché fa pugno? questo è barare casa mia oh what the fuck ma cosa sta succedendo? è diventata più grande cosa sta succedendo? ma raga ma non funziona così sono non capisco non capisco se la sua carta forbici va a culo e lo so ma se qua mi dicono vai a forbici e lui mi fa sasso non ha senso è un pezzo di ca... ma ok ho vinto non... bella per carità bella bella carina come battaglia ci stavo ma non l'ho capita non l'ho capita per niente è stata terribile con calma ho avuto tanta paura tu sei corsi in mio aiuto come hai già fatto ormai tante volte me ne sono stata buona buona per non distrarti mentre menavi fendenti alle stremanche e quel tuo possente martello con quel tuo possente martello colpiscimi si è lasciata un po' trasportare spero di non averti bagnato la solo pet con le mie lacrime se è una cosa adesso mi sento meglio piangere a volte aiuto a sfogarsi ora andiamo a sessare quel nastro verde credo che l'hai reso di conti come fratello sia vicina eh... si dobbiamo farlo anche per questi coriandoli che una volta rinascognazzi di Bowser li renderemo orgogliosi sì ci sono le forbici ci sono le forbici ovviamente non salveremo perché siamo potenti siamo potenti le forbici raga sono toste eccola eccola la terrena del nastro verde l'abbiamo fatta siamo al traguardo c'è Bowser c'è Bowser attento tutto merito mio duellante vilama bella schivata non mi aspettavo di meno ovvio un finale così repentino sarebbe stato ben noioso non trovi? perché non fai un po' di riscaldamento? ti mando il mio nuovo nuovo amichetto per divertirti un'anella di pezzi io ho fame ma che è una lingua per tutti gli origami quelle formi ci hanno creato quella cosa con le facce di tutti non riesco nemmeno a guardarla mi sembra tipo quelle minacce che ti mandano con le lettere tagliate dai giornali pure ti tocca affrontarla buon divertimento ti aspetterò qui nel caso riuscisse a sopravvivere spettacolo ok sono salvo ok ah no ma era già creata la paranella l'anella l'anella c'era già solo che è di carta pezzi la stiamo creando e vabbè c'era un iperraggio un ipercarta aia ah se mi colpisce si reggancio ok non dovrebbe essere difficile ok cammier me ma era sono io kamek ah la vedo questa monsterità ha preso controllo dei miei poteri magici e rimane solo lei che brutta cosa sta creando la magia estremamente potente se tu riuscisse a staccare la mia faccia a questa cosa dovrebbe indebolirsi parecchio però schivare poi stacca la faccia ok per raggio easy e daje ce l'abbiamo no no non ce l'abbiamo fatta non posso avvicinarmi ok bastardo dai no niente non ce l'abbiamo fatta ho 70 di vita va bene occhio dai e tre volte no e basta ce l'abbiamo fatta adesso sono un anello gigante capace di attacchi leggermente meno devastanti sbrassate la risulta per favore dobbiamo farla ribaltare in teoria ok ok boom forza forza vai vai piano piano due tre quattro cinque sei aspetta forza forza un due tre cazzo sei ah sei che fa sempre sei quindi è morto ma va bene quanto mi dai cento non bastano ho perso troppa vita ehi mario arrivo arrivo scusa non dimenticarti delle forbici c'è ragione anche te ma tanto sono loro che non si dimenticano di me devo immaginare che qualsiasi cosa fatta con le facce di quei patrici scagnozzi si sarebbe rivelata ben poco resistente ma non importa allora finito il tuo riscaldamento in guardia madonna il castello di wowser è bello abbiamo sconfitto le mani abbiamo le forbici quanti cacchi di boss creiamo una cosa ti taglierò e ritaglierò i mille pezzetti ma non vedo l'ora perché non dovrei non vedo l'ora perché non dovrei farlo divertendomi non l'ho capito questo fin dei conti che gusto c'è altrimenti tagliare è un mio talento naturale perciò ti considero un piccolo vantaggio ah si è rinfoderato ok se tu non leggerai la mia costruzione durante la battaglia interpreterei una simile audacia come un affronto diretto e non risparmiare alcun colpo non ho capito però va bene non so con cosa andarci quindi quello mi va bene e lì prendiamo l'on e a sto punto ci andrei così anzi così e poi così proviamo subito una man forte anzi ci andiamo con le scarpe fammi vedere non distruggere la custodia attaccare con estrema cautela quindi forse con il martello non va bene attiviamo giusto questo per e ci andiamo con le scarpe proviamo ad andare sopra ok non troppi danni va bene ora col martello giusto? quindi passo di là doppi danni girettino esterno arriviamo lì e scazzottata ci sta? ci mettiamo anche un curicino lì in mezzo? yes devo stare attento con la man forte mi sa dopo posso provare con la man forte adesso ci andiamo col martello adesso ci andiamo col martello oh buono va bene va bene una bassa è stato esistente finché è durato ma i tuoi filibili attacchi mi è ormai annoiata è giunto l'ora di darsi un bel taglio eh no però non vale così avevamo detto di no maledetta preferisco un campo di battaglia ben ordinato perciò temo che dovrei fare a meno di alcune cose ah ok beh certo ha senso ha senso certo certo capisco allora doppio attacco e proviamo proviamo a tirare una martellata io proverei così però senti la musica senti come sviolina quella musica non so con cosa darci eh non ne ho idea cioè anche qua io proverei con martello mitico e diamo due martellate ok meno ok e mo mi colpisce per forza parlare non ti servirai niente è giunto alla vostra fine scarti di carta non vale non puoi schivarmi saltando che truffaldino non andartene non andartene nessuna parte vedrai quanto ci riprovo è bello il fatto che anche aspetta il turno ok ma tagliato un per due tagliato un sacco di frecce ah ma questo è il ghiaccio ok capito allora io andrei qua sull'on e poi andrei qua e poi andrei ad attivare le botte proviamo una roba un po' diversa magari la schianta cioè tira scazzottate ho paura che mi tagli ho fatto una cagata infatti si è girata verso di me non si può fare c'è un todolo dietro prima per saltare quindi con le artimagne non si può fare potremmo provare a congelarla magari prima vai con il ghiaccio la congeli e rimane ferma è l'unica cosa che mi viene in mente andiamo così proviamo a congelare cioè non posso pararlo ok ma posso comunque cosarlo vediamo si posso congelarlo perché ormai qua non ne sono neanche tanto sicuro si si e mo mo che è congelato per due eeeh scrigno e botte bo posso posso far così può funzionare come cosa sempre martellata di fuoco andiamoci con questo classic e lui mi taglia la roba a questo punto preferisco schivare un attacco allora arrivo lì on dammi i pezzi e mi dammi l'attacco se se preferisco eh ma se lo congelo non posso colpirlo dopo no o sbaglio non capisco non capisco come funziona vorrei provarle anche a saltare in testa ma non posso si può fare con il marcello il marcello il marcello di ghiaccio le congelo mi sa di no ok finché riesco a saltarle va bene ho paura a farmi tagliare che è un casino mi sa allora mi taglio un attacco due attacchi un per due e due danni tutto mi ha tagliato ma che ma guardate che infame guardate che infame io la congelo di nuovo è l'unica e provo poi col martello di fuoco provo col martello di fuoco a vedere se si scongela anche perché ci sarà un modo no col cartomagno cioè con le artimagne se ci do con le artimagne lui adesso non mi taglia niente giusto? ci do con le artimagne no si si allora vado di là on e giro l'ultimo anzi no questo non mi serve a niente devo far così no lo sto facendo aspetta così e poi così proviamo in teoria adesso che non si può muovere però non so neanche se posso afferrare il ghiaccio oh onesto onesto l'avevo pensato in modo diverso ma va bene anche così not bad ti è piaciuta la lezione? ne hai avuto abbastanza? così impari a sottovalutare il mio amico Mario eh? che è successo? vabbè si è spaccato bello come proprio esplode tipo Power Ranger ok ok vabbè no alla fine è stata facile dai poteva andare molto peggio poteva andare molto peggio molto molto peggio se l'hai fatta Mario sono di nuovo nel pieno delle mie forze oppure la mia bacchetta sì non c'è male mi sa che mio papà esagera quando dice che se sono un baffuto piccoletto buono o nulla e perde sempre però vabbè adesso dobbiamo soltanto strutturare il nastro verde o spaccare il nastro verde facciamo come al solito che un colvolena sia stato ma Bowser è lì? ehi quell'affare verde è ancora in mezzo ai piedi c'è io che provo anche magari a a passare prima da lui chiede lì guarda come stai Bowser tutto apposto fuck off ed è l'ultimo raga ci siamo ci siamo voglio vedere poi come arrivi alla giù però va bene e sì che non ho ancora capito a sto punto che cosa ci serve avere le cose aumentate di coriandoli che tanto te li regalano ovunque va bene cioè era meglio forse un cuore pv vabbè gran bel lavoro come al solito Mario questo era l'ultimo nastro ce l'abbiamo fatta c'è Bowser c'è Bowser da salvare grazie infinite per avermi aiutato sai fin da quando mi hai salvata da quel muro del castello di Peach hai continuato a salvarmi ancora e ancora un sacco di volte qui dal profondo delle mie piegature ti ringrazio Mario non avrei davvero potuto fare niente senza il tuo aiuto non avrei ottenuto nulla tutto bene Olivia sì sono molto felice di poter andare al castello di Peach mi chiedo se sarò capace di fermare il mio fratello sarò in grado di fare qualcosa di così importante da sola? e ragazzo origami? non penserai mica che ti lasceremo fare tutto da sola vero? non hai capito come funziona Mario deve salvare la principessa io devo riempire di pugni il tuo fratello per averli ridotto così ah è di famiglia quindi perlomeno sventolare con aggressività contro di lui finché non ottengo di nuovo il mio corpo sì gliela farò pagare per quello che ha fatto mio papà e per tutto quello che mi è toccato fare per colpa sua tipo 40 bagni venire tagliuzzato eccetera eccetera questo è il spirito giusto facciamo vedere cosa sono capace di scansi di Bowser è la nostra carta non piegata oh ragazzi grazie con voi il mio fianco sento di potercela fare lasciatelo a me vabbè sto venendo a prenderti fratellino e stavolta non sarà così facile farmi cadere un magigno in testa adesso li cade ho però detto come facciamo ad arrivare al castello di Peach? non preoccupatevi di questo il grande Bowser ha pensato a tutto voglio vederlo ah il castello vola c'è una cosa che dovete fare guardatevi di qui immaginavo ah sì scusa c'ha ragione arrivo 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 eccoci scusa Bowser eccoci qua non si è aperto ok che l'han piegato bene comunque così va meglio più o meno ah signor Bowser qual è il tuo piano per arrivare al castello? vedi è in cima a un vulcano se è un po' su come raggiungere il castello di Peach forse dovremmo discutere brevemente padrone non ho tempo di starte ad ascoltare ho qualcosa fatto apposta per escursioni del genere Mario ragazzino origami seguitemi devo preparare un paio di cose andiamo al magazzino e al piano terra c'era un magazzino al piano terra? non l'ho visto non l'ho visto Grazie.